Bene ragazzi, benvenuti al mio canale, sono Frank Mazzoni Si sta traballando questa cosa, vai che ti dici E benvenuti al mio canale, sono Frank Mazzoni e ragazzi siamo qui con i ragazzi del Turano Caccio Abbiamo diverse annate qui con noi, 2006, 2005, 2004, anche un 2007, qualche più l'anno Allora, quello che faremo oggi è la classica crossbar charge E ci spiega il nostro amico Alessio, che ha un canale di tempo, come si fa la crossbar charge Usiamo tre palloni, tre postazioni E chi prenderà più attraverso vici E' tipo attraverso Cominciamo dal primo, via Allora, chi deve tirare si mette là Io ti porto No, sei da portiere Che fatto che prenderà attraverso? Se vuoi parare, provo a parare Facciamo il portiere finale Vabbè, ma tanto dovete prendere la traversa, non ci arriva la traversa E se io lui c'ha voglia Io sto trovando Vabbè, io sto trovando Allora, cominciamo dal pallone come ti pare Due, tre, tre video Allora, cominciamo a Gabriel Non toccare la sede No Ok, cominciamo a Gabriel Ci fate per me Anche per me Dietro la telecamera c'è uno di nome mazzi Che scarsa Come Adi Abbiamo l'esco Ma sei distante Preparate per due palloni qua Chi non è pronto Vai andate Che chi è fermo può recuperare il pallone Può fare le mozze Il prossimo è Alessio ragazzi Il canale YouTube per lui che si chiama Alessio Alessio Il prossimo è Alessio Il prossimo è Alessio Il prossimo è Alessio Il prossimo è Alessio Non male, quasi. Porta, abbiamo il nostro Samuele 2007. La traversa, quasi. Notiamo che chi cerca la traversa va avanti e c'è un premio in palio. Porterò alla prossima il prossimo allenamento porterò al premio. Dipende chi vince può scegliere quello che vuole. 100 milioni di euro. Potrebbero essere crediti FIFA personalizzati, un po' ballon di la casa. Allora, viste, si fa prima. Daci 100 mila euro. Ok, tocca a Andrew. Don mio Andrew, Andrew. Niente. Per ora non ho sentito ancora il rumore della traversa. Batti, anche. Ancora nel rumore della traversa. Gampo, vince mai, gampo. Vai. Niente traversa per ora. Ti tocca? A me. Ok, vai il fratello di Tommy. Ryan. Ryan, Ryan. Vediamo Ryan. Tre palloni per Ryan. Gli ne manca uno. Gli ne mettete uno. Ok, Ryan, cominciate. Attenzione a Ryan, ragazzi. Prima? No. Per ora ancora nessuno preso a traversa. Nessuno. Allora, questi ragazzi... La traversa la prendono sempre. Però quando c'è il momento del debutco, vedete, cremano le gambe. Oggi non la vedrò mai. Neanche io. Però nessuno. Vediamo chi è rimasto. Devo pensare io, Ryan. Ciao, se vuoi mettere in tira, vieni. Come io? Io. Io dopo faccio il 3 su 3, eh, bro. Dopo, dopo ci sarà anche il mister del 2006. Dopo, dopo rimanano tutti a carta. Gli apri. E vai. Dopo io? Tre tiri per Gli apri. Dopo io. A lei. A lei. Andiamo Gli apri. A parte. A parte. Aia. A lei. Andiamo Gli apri. A parte. Secondo tiro per Gli apri. Secondo tiro per Gli apri. Vincendo. Più alto. Divinitare Vegeta. Terzo tiro per Gli apri. Divinitare Vegeta. Se non fare io. Quasi. Quasi. Se non fare su è chiaro. No, c'è anche il posto di Gli apri. Eh, così, guarda, ya. Secondo me vince Gli apri. Oh, sì. Ti tocca? Felicia? No. No. Ci abbiamo Francesco. 2.300. Ma lui va che ho pallone. Io sono i documenti. Quindi pallone. Misteri. Non ho sentito nessun rumore di traverso. Ma se non la prende nessuno. Dopo ci prova anche io. Se non la prova nessuno, troverò qualcuno che la prende fra quelli che arrivano per oggi. Sessione. Presa. Francesco il primo. Sessione. Presa. Francesco il primo. Prima Francesco. Guardiamo se fa due punti, eh. Sì, guarda. Va bene. Potete a D1. Attenzione. Alta, alta. Ha preso l'altro paletto. Adesso vince il premio il nostro Francesco. Ovviamente se la dovrà vedere alla fine con il nostro jump. Il tecnico la tiene più caldo. Ti manca? Vuoi tirare un grosso falciante. Ti va? Ok, siamo su. Vuoi fare? Pronto? Ci abbiamo, Zito, mi ricordo il tuo nome. Arriva Stefano, arriva Stefano. Diego. Stemadino, c'è lì. Diego. Prima non... Diego. Prima non... Non va ma c'è andato vicino. Prossimo tiro per D1. Ci fa due tentative. Ci fa due tentative. Ci fa due tentative. Non è culo. Elia. E' lì, a semmo non tirare. Attenzione all'ultimo tiro di Diego. Spostiamoci. Attenzione. Arriva Stefano. Niente anche per Diego. Per adesso rimane il campione Francesco. Qualcuno? Ste. Willy. Che ste. Willy, canale YouTube. Poi c'è anche Ste. Si. Hai già cominciato? Ho visto bene. Stia. Stia. Ora che c'è molta. Ora Ste, Ste. Fate passare Ste ora. Ste. Ste. Il mondo di qui, Stefano, anno 2006. Guardiamo il terzo tiro. In caso di pareggio c'è. Si va avanti. Sarà nello sconto tra Francesco e quello che fa. Sarà nello sconto. Non voleva partecipare. Questo qua se lo buttò fuori. Quindi si allena dalla mattina alla sera ragazzi. Se lo trovo sparciano. Ne ha preso un sacco di tre. Anche il partito. Ha ha. E' quello che è riuso. Andiamo alla seconda. Ha ha. Ma si è finita. Ha ha ha. Allora sta andando. Ok. La prende Massimo. Chi rimane? Guardami Massimo. Inizia veloce. Recuperate. Mamma. Si è finita. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ma che è finita? Ha 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 ha. Ok. Chi rimane? Guardami Massimo. Miscia veloce. Recuperate il pallone per feliccia veloce. Dai dove posso tirare una? Dopo chi mi manca c'è lo scontro tra Francesco e Willy. Veloce. Felicia. se non ce la fa Felicia c'è lo scontro tra Francesco e Willy ragazzi scontro proprio che schifo è schifesso 3 palloni veloci per Felicia 3 palloni per Felicia suono 3 palloni per Felicia suono guarda quanti le manco Felicia pronto? Felicia vai vabbiamo per te dai si voglia questo il caso rimane lo scontro finale tra Francesco e Willy Francesco e Willy vai cagare Francesco e Willy e Willy e Willy e Willy e Willy vai cagare vai cagare vai allora scontro finale beh almeno hai fatto molto regista ti controlla mi che non si blocca questa che va avanti ok ok siamo a 9 ok tre tiri per Francesco siamo alla finale ci siamo dentro a te finalissimi vieni qua vieni qui vieni qui vieni qui vieni qui vieni qui vieni qui abbiamo Francesco un ottimo difensore un po' tardi diciamo e abbiamo Willy un altro attaccante cominciamo e portiere e cominciamo e portiere e se non vi è passato è tutto e cosa è una plana e non ti la prende va bene vieni qui la prima che non la prendete dovete tirare vai vieni qui ti guarda vieni qui ti guarda c'è ti guarda oh vieni qui vieni qui vieni qui vieni qui vieni qui basta che becchino e traverso hai visto traverso te sei uscito però se lui sbaglia ritorna in gioco io non vinco se c'è poti bisogna crederci anch'io su FIFA ci credo fino all'ultimo poi perde segno su FIFA ragazzi tre tiri per Willy può diventare il cazzoso la prima non va vediamo la seconda il cazzoso Grazie a tutti Signori, lui vincerà il premio Avrà un grande senso Un saluto a tutti i ragazzi del Turano Calcio A tutti voi che ci state guardando Mamme, bambini e tutto il resto Un saluto da tutti i ragazzi Tutti qui dietro, veloci, veloci Fate così, fate così Da, Frank, Mazzoni e tutto Passi e chiude